Allora Presidente Salvatore Turco, è mancato oggi la fortuna ma non il valore. La squadra comunque è andata in vantaggio al primo tempo con un bellissimo calcio di punizione di Greco, dopo il che loro hanno recuperato perché c'è stata qualche incomprensione in difesa, però fino alla fine abbiamo combattuto per poter recuperare il risultato. Poi un arbitraggio che un pochettino ha lasciato andare qualche cosa contro di noi e poi alla fine con rigore ci ha completamente fatto rinunciare a quello che poi poteva essere un buon recupero con una prestazione che ci poteva anche gratificare oggi. Però la sfortuna ci sta perseguitando in questo periodo qua. Diciamo che oggi ci sarebbe tanto da dire, eravamo anche partiti bene, settimana i ragazzi hanno lavorato tanto, gli ho visti, hanno lavorato bene, si erano provate tante situazioni che insomma oggi tra l'altro siamo andati in gol con una posizione che abbiamo provato tante volte in settimana. Tante situazioni che poi dopo il gol, il vantaggio abbiamo avuto 10-15 minuti, sono andati un po' in palla. E diciamo che questo è un po' il problema che ci stiamo portando avanti dall'inizio. Al di là della condizione fisica, dalla mancanza di alcuni giocatori, oggi rientrava almeno in panchina tra i disponibili, un difensore che poi insomma salterà anche la prossima. è stato espulso strumento per... non si è capito ancora per quale motivo, però... Ancora non lo sa neanche l'arbitragio. Diciamo che l'arbitragio oggi, come detto prima, è stato, vabbè, da una parte e dall'altra, però in particolare nei nostri confronti è stato un po' pesante perché ha riguardo... manca un rigore non concesso anche. C'è un rigore abbastanza... Poi ha concesso il rigore all'algo rotondo che era anche questo un pochino molto, ma molto dubbio. Sì, tante situazioni che ci hanno un attimino penalizzato, secondo me, e devo dire che sul 3-2 quel palo, quella situazione del rigore, potevamo pareggiarla, sicuramente lì sarebbe cambiata, sarebbe stata una partita diversa. Purtroppo è andata così, dobbiamo continuare a lavorare, sperando che ci comincia ad andare bene qualcosa, perché fino ad oggi non ce n'è andata una bene. Manca qualcosa a questa squadra, bisogna... Ma dobbiamo solo pensare a lavorare, quello che manca, se manca lo sappiamo, lavoreremo in futuro per migliorare, se ci sarà da fare qualcosa faremo, però in questo momento dobbiamo solo pensare a recuperare la condizione fisica, tutti gli effettivi disponibili e... Sicuramente ci vuole una vittoria per ridare morale a una squadra che oggi ha paura di vincere. Questa è l'unica cosa che io vedo, perché non è che non giochiamo, giochiamo, giocare giochiamo, creiamo, ci sono delle situazioni, però che poi alla fine... Manca sempre la ciliegina sulla torta, quel famoso gol... Oggi eravamo anche passati in vantaggio, fino ad oggi non era mai successo, quindi... Ripeto, oggi... No, no, ma oggi hanno giocato, hanno fatto una bella partita, siamo stati sfortunati, perché comunque in fase di finalizzazione non abbiamo trovato sempre quel momento... Abbiamo fatto due gol, ci sono state altre due situazioni, il rigore non concesso, un'altra palla, mi sembra, su Bari, insomma, le situazioni le abbiamo creato, poi insomma devi buttare dentro, se no la butti dentro e poi le prendi in maniera un po'... E' stato quel quarto d'ora, se hai tolto quei dieci minuti, quarto d'ora, la partita poteva anche finire in un altro momento... Va bene, Presidente, speriamo che recuperiamo quanto prima qualche risultato utile, toglierci da questa posizione in classifica che diventa sempre un pochettino più preoccupante, quindi... Sì, vediamo il massimo di recuperare... Non siamo abituati a stare in questa posizione, vogliamo uscirne quanto prima... Io ho esorto un attimino i tifosi a venirci a dare una mano domenica a Montalbano contro il Ceglia, abbiamo bisogno del tipo, non si può venire al campo solo alla finale o quando si riprimi in classifica, bisogna venire... Anche nei momenti di difficoltà... Anche nei momenti di difficoltà, anzi, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché oggi questi ragazzi sono lasciati, sono stati un po' abbandonati dai nostri tifosi, io non vedo più gente al campo... Va bene, grazie Presidente, ci sentiamo alla prossima...